Per la seconda semifinale in programma nel torneo tricolore 2019, trofeo champion, scendono in campo per il derby Juventus e Torino. Ci prova subito in apertura la Juventus con Bufandar, nessun problema per Valente. Poi risponde il Torino qualche istante più tardi, occasione sulla corsia di sinistra per Italiano che mette al centro, non riesce a trovare la porta a pugno da pochi passi. Arriva il gol del vantaggio, pochi istanti più tardi, al decimo del primo tempo, la botta da parte del numero 8, Finocchiaro. Portiere non riesce a trattenere, palla in retto per il gol dell'1-0 della Juventus. Rivediamo il replay con la forte conclusione da parte di Finocchiaro per il vantaggio bianconero. Ancora Juventus è pericolosa sui sviluppi di un corner, qui ci prova il numero 7 Nuti. Buona la risposta da parte di Valente, poi ancora Juventus è pericolosa, sempre sui sviluppi di un cross della corsia di sinistra. Palla sul fondo, prova a rispondere il Torino. Il tiro cross da parte del numero 7 Dimitri, palla sul fondo, poi ancora Juventus nella finale della prima frazione, qui si salva in due tempi Valente. Ancora Juventus qui con l'immagine, siamo al secondo tempo, palla in mezzo, non riesce ad arrivare all'appuntamento con il pallone Pisano. Il gol è però solo rimandato, proprio Pisano sulla corsia di sinistra, mette al centro il pallone sulla pressione da parte di Nuti. Diviazione all'interno della propria parte, un difensore del Torino e palla in rete per il gol del 2-0. Rivediamo il cross al centro, il raddoppio bianconero, Juventus 2 Torino 0. Prova la formazione Granata con il numero 6 Ermo Cida, non riesce però a trovare la porta, da buona posizione. Poi la Juventus, il cross dalla corsia di destra da parte di Piccinin, il colpo di testa indisturbato a centro area di Nuti e il gol del 3-0. Rivediamo il cross al centro area di rigore, il colpo di testa vincente da parte di Nuti. Il trisse bianconero nel finale, splendida azione corale della formazione juventina. Il pallone sulla corsia di sinistra per Brossa che mette al centro il pallone, arriva Pisano che riesce a mettere in gol. Per il gol del 4-0 rivediamo il cross da parte di Brossa. Pisano con il piatto destro, palla in rete, poker bianconero. Di lì a poco arriva la treplice fischio finale con la Juventus che batte 4-0 il Torino nel semifinale e si qualifica per la finalizzazione dove troverà la Fiorentina.